Quindi ogni volta che andavo a prenderla e poi andavamo in centro e la riaccompagnavo e poi tornavo in centro, se ero sfortunato, potevo aspettare molti treni che non passavano mai e di solito ero sfortunato. Dai che se no chiude di nuovo. Chi? Ma come chi? Avevo notato che non solo Agata, ma tutti quelli che abitavano al di là del passaggio a livello non ci pensavano mai ai passaggi a livello. Poteva capitare che aspettassi mentre andavo a prenderla, che aspettassimo assieme mentre andavamo in centro, che aspettassimo assieme mentre tornavamo a casa sua e che aspettassi da solo mentre tornava a casa mia. Ci vediamo eh? Sì ma andiamo ancora o no? Tantissimo, ma ne parliamo domani. Ok. Il tempo passava ed ogni volta... C'è il soldi! Era il condensato di una storia d'amore e di come ha l'abitudine a consumarsi. Canto per me! C'è il che scorso del Jahren! C'è il companto per me! C'è il fatto che siade di una storia d'amore ma montre a morire!